E' tempo di passare da un'enunciazione che ripetiamo come macchinette tutti, e cioè guardate all'evoluzione dei traffici nel contesto globale, guardate la centralità del Mediterraneo, guardate la Sicilia, e cos'è la Sicilia se non una piattaforma logistica messa nel mezzo del Mediterraneo? La cantilena, continuatela voi che la sapete, allora questa non è una cantilena che dice una cosa infondata, questa storia è fondata, è vero, è così, solo che se non abbiamo la concentrazione dell'investimento su alcune infrastrutture essenziali, Noi questa storia continuiamo a raccontarcela ma non la vediamo realizzarsi concretamente